Ben ritrovati, puntuali come sempre, con le informazioni di Deliceto Web News. Ecco la prima notizia. Nonostante le proibitive condizioni climatiche, si è svolta regolarmente la seconda rappresentazione della venticinquesima edizione del presepe vivente, quella del 6 gennaio presso il Castello Normanno di Deliceto. Ha visto un soddisfacente numero di visitatori giunti da varie province. Ha festeggiato il giorno 6 gennaio scorso il suo centoduesimo compleanno la signora Maria Andonia Incegno, vedova di Innocenzio. Al momento è la nonnina di Deliceto. Ricordiamo che il record di longevità appartiene ancora alla signora Saveria Tarallo, con 106 anni. Tutta la redazione formula ferdi di aguri per altri 100 anni. Cittadinanza e partecipazione, viaggio nel tempo e nella storia. Questo è il titolo del progetto presentato dall'Associazione Leali di Trilli, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, mercoledì 11 gennaio presso Sala Europa. Sono intervenuti Mariano Laudisi, Vice Sindaco di Deliceto, Livio Quattroocchi, Presidente dell'Associazione Leali di Trilli e Giulia Mucelli, Progettista della Camelot Consulting SRL di Foggia. Ci troviamo insieme a Livio Quattroocchi, Presidente dell'Associazione Leali di Trilli. Qual è il progetto che avete portato qui a Deliceto? In cosa consiste? I progetti sono due essenzialmente. Uno è un progetto in partenariato con un paese estero che è l'Albania e uno invece intitola la cittadinanza attiva, quindi un po' quello che è rendere partecipi tutta la popolazione affinché sia effettivamente attiva in un contesto civico. Quali sono le tappe di questo progetto? Quanto durerà? Cosa ci dobbiamo aspettare? Sì, la durata di entrambe i progetti sarà di un anno. L'obiettivo per quanto riguarda il progetto della cittadinanza attiva è quello di fare dei laboratori che mirino a colmare in un evento sul territorio ovviamente dove la popolazione, il target sono i bambini, interpreteranno il ruolo di un'epoca, nello specifico qui l'epoca scelta per il comune di Deliceto è il Medioevo. Mentre per quanto riguarda, quindi questo sarà l'evento, il clou, per quanto concerne invece il progetto con l'Albania, porterà sul territorio 12 ragazzi che in concordo con altri 12 ragazzi del territorio praticamente faranno una sorta di attività, dei laboratori alla stessa maniera dove praticamente ci sarà uno scambio di quelle che sono le tradizioni, in questo caso tradizioni diciamo volte a quelle culinarie, economiche. Le ali di Trilli, voi in questo caso siete venuti qui a Deliceto e anche in Albania, in genere di cosa vi occupate? Allora, la nostra associazione che peraltro ha sede legale qui nel comune di Deliceto si occupa prevalentemente di attività diciamo ludiche, ricreative, a volte diciamo ai bambini, ma non solo. Ci troviamo con il vice sindaco Mariano Laudisi. Mariano, l'amministrazione comunale che ruolo ha in questo progetto? Noi oggi qui siamo lieti di ospitare l'associazione Le ali di Trilli con il suo presidente Livio Quattrociocchi. Siamo oggi qui a spiegare un attimino alla cittadinanza le due progettualità in essere con questa associazione. Si tratta di due progettualità che vede Deliceto inserito in un sistema. La prima progettualità che andrà ad attuarsi sarà quella che riguarderà un attimino le radici europee e vedrà impegnati innanzitutto, in prima battuta, una delegazione di due persone albanesi in visita al nostro territorio e successivamente il progetto si andrà a sviluppare con 12 ragazzi albanesi che verranno ospitati per 10 giorni sia nel territorio di Deliceto che in quello di Pietramonte Corvino. Loro confronteranno un attimino e dibatteranno su quelle che sono le nostre radici e le nostre culture enogastronomiche e le confronteranno con la propria realtà locale. Inoltre il secondo progetto è un progetto che noi attendevamo da un po' di tempo e ci vede uniti con i comuni di Panni, Bovino, Monteleone e Orsare e ovviamente Deliceto e Deliceto verrà designata come Deliceto città medievale quindi impegneremo le associazioni affinché Deliceto riviva l'area un attimino del medioevo con tutte le sue attività. Come dicevo era un progetto che attendevamo da un bel po' di tempo era in embrione e oggi finalmente viene attualizzato e sentiremo nella nostra conferenza come si andranno a sviluppare queste due progettualità. Quindi da una parte vediamo Deliceto storico e dall'altra invece Deliceto internazionale. Sì, è un po' quella l'idea dell'amministrazione comunale diciamo l'iter culturale che stiamo adottando è quello di inserire Deliceto in sistemi più ambi di quello strettamente locale quindi questa è ancora una volta un'occasione come è successo già nel mese di dicembre con il gemellaggio del presepe vivente di Deliceto con quello di Rignano Garganico. Stiamo cercando in tutti i settori di entrare in sistema anche in estate ci è stato permesso con le giornate sulla transumanza. Insomma l'intenzione dell'amministrazione è quello di esportare il prodotto sia culturale che no gastronomico e far conoscere la nostra realtà oltre i nostri confini. Organizzata dalla locale sede col diretti di Deliceto domenica 15 gennaio giornata del ringraziamento una cerimonia religiosa ufficiata dal paroco Don Leonar Camanzi dalla parrocchia del Santissimo Salvatore alla presenza delle autorità di categoria e associati. Festeggiamo la giornata del ringraziamento ogni anno è un evento che col diretti tiene molto perché è il momento in cui chiediamo la benedizione della terra, la benedizione dell'acqua, la benedizione del lavoro di noi agricoltori e nello stesso tempo ringraziamo il Signore per quello che ci ha dato dell'anno precedente. Non abbiamo una data precisa, nel senso che viene ogni volta festeggiata a seconda delle nostre necessità e comunque sempre durante l'anno. Abbiamo preferito quest'anno gennaio ma l'anno scorso abbiamo preferito settembre e ci teniamo molto a questa giornata, cerchiamo ogni anno di innovare e migliorarla in qualcosa e chiediamo sempre di più ogni anno la partecipazione di più soci, di gente che tiene a questa manifestazione e che tiene alla benedizione del Signore sulle nostre aziende e sui nostri raccolti. Grazie. Sono iniziati in Contrada Scarano, alla periferia di Deliceto, i lavori di costruzione della nuova sede dei Vigili del Fuoco. I prefabbricati comprendono alloggi per il personale e ricovero per gli automezzi per un importo complessivo di 195.000 euro. 27 gennaio, giornata della memoria per ricordare la Shoah. Non deve essere una rievocazione del passato fino a se stessa, ma un modo per farlo diventare esperienza del quotidiano. L'odio razziale che ha gettato una macchia indelebile sulla civiltà occidentale, la sofferenza che ha causato, la morte e l'orrore, non appartengono solo alla storia. A Deliceto, in occasione di questa giornata, molte erano state le ricerche, sia private che pubbliche, in particolare le scolaresche, desiderose di conoscere eventuali coinvolgimenti di concittadini, ma con scarsi risultati. Solo da qualche anno, casualmente, si è venuti a conoscenza di testimonianze vissute, ma tenute nascoste dagli interessati. È il caso del professor Alessandro Santoro, del licetano di nascita, quarto di cinque figli, rimasto orfano del padre Pasquale e della madre Carmela Suriano. Visse la fanciulezza con degli zii. Trasferitosi dopo gli studi a Foggia, dove ha anche insegnato in diversi licei e in ultimo a Pescara, dove la famiglia risiede, è stato premiato con medaglia d'oro a valor militare dalla prefettura di Pescara. Una conferenza di presentazione del libro, diario Ricordi di guerra, conflitto morale nelle riflessioni di un intellettuale, dove egli descrive il vissuto di internato in un lager, venne presentato a cura della famiglia e alla presenza di autorità locali due anni addietro, presso il salone del castello di Deliceto. È storia recente il ritrovamento di documenti, in modo casuale, da parte del signor Rocco Petrella, figlio di Antonio, classe 1915, dove si attesta l'esperienza vissuta del genitore in un campo lager. Su questo sito internet è possibile visionare il video raccontato, storia di un delicetano deportato. Abbiamo conosciuto una nuova pagina di storia, storia locale, dei nostri padri, quindi ringraziamo il signor Rocco Petrella per questa esperienza che ha voluto condividere con noi. Grazie. Io devo ringraziare voi per avermi dato questo spazio che sicuramente contribuirà a far conoscere la verità. Grazie. È stato presentato, domenica 29 gennaio, presso il Santuario della Consolazione, il restauro della tavola di Santa Maria della Consolazione. Sono intervenuti Padre Annias, rettore del santuario, Antonio Montanino, sindaco di Deliceto, Luciano Porcelluzzi, che ha presentato una relazione dal titolo Perché la Madonna della Consolazione? Valerio Iaccarino, sull'importanza dell'estauro, Vincenzo Mazzei, presidente club UNESCO Deliceto. Si è svolta nelle serate del 27, 28 e 29 gennaio presso il Teatro Pidocchietti dei Padri Convognani di Troia una rappresentazione teatrale dal titolo 1x3, scritta e diretta dal regista Delicetano, Michele Di Francesco. Questa era l'ultima notizia. Ne ringraziavi per la vostra attenzione, vi rinnoviamo l'appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!